Apriamo, o la vola spacca? Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Astronauts. Ringrazio vivamente Motherwolf per la key e andiamo a vedere questo gioco. Naturalmente è una preview e come tutte le preview io non ho mai provato il gioco. Lo andremo a scoprire insieme. Quindi New Game. Clicchiamo su uno slot. Ok. Ed eccoci qua nel mondo di Astronauts. Andiamo a vedere gli obiettivi. Ci dice di guardare dentro il lavandino. Usa. Praticamente sarebbe usarlo. Ah, ci fa creare il personaggio. Perfetto. Nome. Iota. Capelli. Anzi, possono togliere? No. Ok. Forse cliccando qua. Sì. Oh, perfetto. Allora. Va bene questi. Non voglio cicatrici. Posso fare così? Vediamo un randomize. Randomize. Ah. Randomize. Fico. Ok. Torniamo ai capelli. No. Non voglio occhiali. Magari normali. Degli occhi normali. Eccoli qua. Gli occhi... Mmm. Ci sono gli occhiai. Ci sono. C'è un po' di tutto, diciamo. Questi. Ok. Il naso... Questo. Denti... Non ne ho la più pallida idea. Ah, sono qua. Non capisco i denti, ok? Labbra va bene. Collo... Vabbè. Ci siamo. Done. Obiettivo completato. Gli altri obiettivi è... E' in problemi history. Quindi ci chiedi di andare nella carriera. Qui. Tavolo carriera. Carriera chiosco. Chiosco carriera. Carriera chiosco. Ok. L'unico che in questo momento è avvilabile è Shipbreaker. Va bene. E qui praticamente credo che ci faccia svolgere la carriera, no? Ok. Partiamo da 19 anni. E abbiamo 95 dollari. Cioè, fino adesso... Sono rimasto a zero e nessuna skill. Ho preso solamente la skill dell'hacking e fino adesso però ho 95 dollari. Faccio un po' schifo nella carriera. Ok. Perché praticamente bisogna leggere tutto e dare una risposta in base a certi criteri. E... Siamo pronti. Va bene. Andiamo così. Allora ho lo skill dell'hacking e basta praticamente. Faccio un po' schifo però va bene. Summit. Ok. Poi ci dice di aprire l'inventario. Questo è il nostro inventario. Noi possiamo eventualmente togliere e mettere indumenti. Ci dice di comprare qualcosa ma con 95 dollari... Non credo sia tanto. Molta poca roba. Molta poca roba. Andiamo a comprare qualcosa. Tradiamo. E cosa possiamo comprare? Vediamo un attimo. È già super... No 20 dollari. 20 dollari per la crowbar. Ok. Poi magari un po' di cibo lo posso comprare. Tipo così. Dei nachos e un po' di acqua. Non si sa mai. E quanta sono? A 59 dollari. E... Una lampada e già siamo a 120. La lampada costa troppo. Solo la lampada costa 68. Quindi o la lampada o la crowbar. Diciamo così. Siamo a 81. 81. E ci portiamo il cibo. 94 dollari. Che missione. Ok. Perfetto. Ah. Se clicchiamo sul nostro personaggio spuntano delle varie cose. Opzioni. Browse. Remember. Ride. Cocoon. Push up. Ah. Fa gli esercizi. Figo. E vote. Usa. Wain down. Ah. Questo voglio. Ok. Grazie. Perfetto. Questo è il nostro personaggino. È affamato. È di già affamato. Abbiamo appena comprato il cibo. Cioè sei già affamato. Mangia. Ok. È finito? Vabbè. Self care. Cosa vuol dire? Usa. Ah. Ci abbiamo tre punti. Allora. Siamo fragile. Immuno soppressi. Sfriamo di insonnia. Carismatico. Sono un leader. Carismatico è meno uno. Leader è meno uno. Slow metabolismo è meno uno. Cosa mettiamo? C'è un sacco di roba. Mi curo velocemente? Ottimo. Poi. Leale. Gentile. Ottimista. Nello spazio bisogna essere ottimisti. E. Vediamo un attimo. Brave. Però Brave mi dà meno uno. Non capisco. Devebbe darmi più uno. Perché l'ho messo come skill. Non era la più palida idea. Accettiamo. E andiamo. Lancia. La tua nave. Ci decolla. Apriamo la porta. Capito che queste sono delle porte. Spostiamo la visuale. E c'è il lancio. Lancia. Astronave. Perfetto. Lancia. Preview. Conferma. La missione. Ci siamo. Obiettivo completato. Usa il nav station. Nav station. Usa. Cos'è sta roba? Ok. Allora. Vediamo. VSD. Que. Right click. Per sezionare la destinazione. Red line. Process course. Ok. Start up. Ok. Ah. E tutti questi pulsanti. Out. Ah. Ma c'è un mondo gigante. Eh. Ma quanto cavolo è grande sto coso. È immenso. Ur. Pla. Stunu. Vabbè. Stunu. Andiamo vicini. Quindi. Supponiamo noi vogliessimo andare qui. Giriamo l'astronave. Piano 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 piano. Perché ci chiamiamo Ragnarok? Brutto. Tasto destro per sezionare il coso rosso. Vabbè. Lo metterà. Non ho la più palidea. Ci avviciniamo. Andiamo. Dovremmo muoverci così. Sì. Ok. Quindi con la W. Ci abbiamo la velocità. Possiamo aumentare la velocità per andare più veloci. C'è anche il fast forward qua. Ah. Tanta roba. Diminuiamo un po' perché sennò ci arriviamo troppo velocemente. No. Ok. Andiamo in play. Ci avviciniamo. Velocità di crociera. Credo che sia questa. Questa è la velocità relativa. Adesso incominciamo a diminuire. Sì. Ok. Velocità RCS. È questa. Ci siamo quasi. 35. Ci siamo. Docking station. Select docking station. Non c'è. Target. Nessuno. Perfetto. Ah. È uscito. Nuova. E riproviamo. Ok. Ci fa vedere di nuovo le cose. Andiamo più vicino. Ah no. Ok. Fermo. Questo voglio. Ok. Ancora più vicino? Siamo vicinissimi. Siamo iper vicini. Ok. Questo è map control. No. Ok. Ok. Ah. Eccolo qua. Selezioniamo questo. Select target. Questo qui. Docking. Dock plot. Ok. Accetto. Ah. Ecco qua. Allora giriamo assi. Ui 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 ui. Piano 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 piano. Piano. Ok. Dobbiamo andare piano. Andiamo nello spazio. E dobbiamo fare come. Come dei pazzi assassini. Quindi andiamo pianissimo. Velocità di avvicinamento. E' questa. 0.6. Credo che sia quella. 21 metri. Ci siamo. Houston. Stiamo per attraccare. Allora. Alliniamoci meglio. Ok. Ci siamo. Mi sa che l'abbiamo anche sbattuto forte. Mi sa che l'abbiamo un po' troppo veloci. Infatti si è allontanato l'oggetto. Diciamoci anche la fisica. Ok. Ci siamo. Clamp. Ok. Accetta. Perfetto. Ci siamo. Ottimo. Controlla la tua batteria. Batteria. Control panel. E a metà. Questa cos'è? Batteria. Control panel. Install e riposiziona la batteria. Ah. Quindi questa batteria qua. Io posso fare. Batteria. Pick up. E installarla. Ok. E dove all'estallo? Ah. Quindi. Build. Pover up. Credo che sia power. Batteria. R per ruotare. Ok. Allora. Ci sono delle freccette. Freccette. E la metterei qua a sto punto. Sì. Ok. Allora. 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 Ci sta un po'. Quindi aumentiamo la velocità. Ottimo. Obiettivo completato. Ok. Perfetto. Quindi ora gli obiettivi non ne abbiamo più. Se facciamo un controllo batteria. Questo debba essere carica. Infatti. Però. Manca un collegamento. Perché questa prende solo batteria da qua. Quindi. Power. I cavi. Così. Ah. Necessita di oggetti che noi non abbiamo. Perfetto. Dato che abbiamo attraccato e abbiamo trovato una nuova nave. Aspetta però. I. Questo. E questo. Ottimo. Aspetta un attimo. Abbiamo anche la luce. Che ci conviene. Accendere. Perfetto. Vediamo un po'. Di aprire. Andiamo nell'airlock. Passiamo nell'airlock. E sta uscendo dell'aria però. Chiudiamo subito. Perché se no. Ci svuota la nostra nave. E abbiamo subito una worklamp. Ce la prendiamo. Perfetto. Questi cosa sono? Ulpatch. Pickup. Non è una più palida idea. Che cosa siano. Cosa facciano. Ulpatch. Pickup. Qua ci abbiamo il log 20. Allora. Vediamo cosa fa. Ah. Ok. Serve per riparare qualcosa. Questi cosa sono? I viei suite. Fico. Pickup. Quindi possiamo andare all'esterno con questo. E questi qua. Control panel. Alla Morven Ride. Va bene. Apri. No. Non apre. Access lock. No. È spento. Perché non ha batteria. Cioè non ha corrente elettrica. Quindi. Forziamo. Non possiamo. Dannazione. Ah certo. Non abbiamo l'acrobar. Per forzare abbiamo bisogno del piede di porco. Quindi l'acrobar. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è non fare niente. Uninstall. Lo fa? Possiamo disinstallarla? Credo proprio di no. Credo che proprio lui ci stia provando ma non lo sa. Fare. Quindi cancelliamo l'azione. Andiamo qui. Eh no. Non possiamo passare. Dobbiamo cambiare. Però qui cosa abbiamo? Questo. Non ci possiamo fregare niente da qua. Questi sono i sensori. No? Ma se io disinstallo tipo un muro. Tipo. Uninstall. Struttura cutter. No. Eh. Scraps. No. Siamo un po'. Fermi. Ok. Dobbiamo scegliere un'altra. Stazione. Credo. Perché qui. Non possiamo fare niente. Close. Perfetto. Partiamo. Andiamo dall'altra parte. E vediamo un po' cosa ci riserva il futuro. Allora. Link PDA cos'è? Link PDA. Cosa sai? Ah. Possiamo mettere il nome. Allora. Nome. Broccolo. Siamo linkati col bluetooth e la batteria. Ci dici che ci dà un'alerta di pressione. Vabbè. 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 Allora. USA. Va bene. Quindi siccome ci abbiamo il dock station. Lo disingaggiamo. Come si fa a togliere? Questo. Reject. Ok. Penso che sia quello, no? No. Before engage il preventive catastrophe damage and dock. Eh. Ho capito. Clear. Come si fa? Status. Return. NAB identity. Message log. Status. Emergenza. Non è doccato. Ah. E' questo. Seleziona l'obiettivo. Questo. Questo. Così lo accetta. Ma. Io non voglio loccarlo. Ah. Forse ho capito. Select. Questo. Select target. Questo qui. Questo. Questo. Reject. E ci allontaniamo. No. Non so come si fa a togliere sta cosa. Oh. Ecco com'era. Bastava premere qua quando lui era attaccato. Ok. No target select. Poi andiamo qui. E andiamo in un'altra stazione. Usa. Ci avviciniamo. Ci siamo. Rallentiamo. Ci dà la prossimità. Ci siamo quasi. Quindi. Se andiamo qua. Select the extension. Dove andiamo? Questo. Punto interrogativo. Docking. Accetta. Ce l'abbiamo a sinistra. Andiamo piano. Si stiamo avvicinando velocemente. Andiamo più piano. Non so come se questo alert qua è rimasto lì. Ci siamo. Club. Aspettate un attimo perché se no qua si impazzisce. Clear. Perfetto. Ok. Togliamo tutte queste cose qua. E vediamo un po' dove siamo spuntati. Cosa abbiamo? Cosa ci offre questo posto? Allora. Airlock. Close. Abbiamo degli istintori. Ci riprendiamo. Un altro istintore. E questa cosa qua cos'è? C'è qualcosa per terra. Tipo. Poi abbiamo altri VA suite. Ci abbiamo questo. Ah il pin code. 1681. Ce lo prendiamo. Open. E c'abbiamo il pin code. Beh ci serve per forza. La crowbar. Altrimenti non si va avanti. I VA battery però ce la prendiamo. Pick up. Questa ce la prendiamo. Vediamo se troviamo un posto dove vendere queste cose. A meno che possiamo distruggere qualcosa. Tipo il termostat. Si faccia install. Io mi disinstalla anche il muro. Vediamo un po'. Ok. Sì. Order. Uninstall. Ah. Qua. Uninstall. Disinstalla questo. Dai. Dai. Forza. Spacchiamo i muri e attraversiamo i muri. Dato che le porte non possiamo fare attraversarle. Vediamo. Che è successo? Che sta succedendo? Ah. Era il cavo. Ah. Quindi abbiamo disinstallato il cavo. Si sta installando il cavo nella sua navicella. Ah. Fico. Io pensavo disinstallare il muro. Va bene. Non è un problema. Ci freghiamo i cavi da qui. Grazie. Mi serve anche questo. Dov'è? Questo è un cavo? Vai. Disinstalla i cavi. E ce li prendiamo noi. Questo non si può fare. Ordine. Cancia. Eh. Però è... Gli staffa. Eh. Installati però questo. Cosa ci abbiamo? Inventario? No. Non c'abbiamo un cavo. Cosa? Scusa. Perché non mi fa vedere che oggetti sono? Questa è una cosa un po' bruttina. Eh. Ok. Disinstalliamo questo. Sarebbe bello vedere che oggetto è. Altrimenti come faccio? Adesso ho disinstallato un cavo. Lui installa il cavo da noi. Quindi la doppia batteria adesso erogherà finalmente energia. Nel frattempo qui abbiamo disinstallato questo. Ce lo prendiamo. Si sa mai. Ora se io faccio uninstall. Del muro. Lui lo disinstalla. Questo muro mi disinstalla un altro cavo. Andiamo. Mi sa che per disinstallare il cavo bisogna per forza l'acrobar. Infatti. Si. Si. Andiamo a cercare di vendere qualcosa da qualche parte per farci soldi. Perché siamo poverissimi. Navstation. USA. Io vedo altre navicelle. Interceptor mobile. Andiamo in altre navicelle. E' un po' difficile questa. Perché forse perché anche l'altra astronave si muove. Ok ci siamo. Clampa. Perfetto. Select dog engine. Dogging. Accetta. Perfetto ci siamo. Usciamo da qui. USA. Clear. Ok ci siamo. Vediamo chi c'è. In teoria dovrebbe esserci atmosfera. Perché era una navicella abitata. E invece. Sento un piripì. Ah caffetteria. Coffee machine. Inventory. Prendi un caffè. Bevo un caffè. Drink. Grazie. Navstation. Ma non c'è nessuno? Ah. Batteria. Control panel. Ma proprio è disabitata? Cioè potrei prendermela io? Questa cosa cos'è? Toilet. Fai la pupù. Fatto. Questo? Questa è una sedia. Ci sediamo. Ma questo cos'è? Frigorifero. Frigorifero signori. Cibo. Abbiamo trovato cibo. Fridge. Search for food. Ci stiamo rubando tutto il cibo poraccio. Beh abbiamo trovato una nuova navicella praticamente. Potremmo prenderne il controllo e rubarla? Funziona così? Non lo so. So solo che qua c'è un continuo parlare. E non so chi è che continua a scrivere ste robe. Però qua non possiamo uscire. Ma abbiamo una nuova navicella. Quello che ancora non ho capito è perché non c'è corrente. Penso che si è distruggendo un po'. Ah eccolo qua il nucleo reattore. Control pane. Signori lo abbiamo acceso. C'è un sacco di errori. Però. Un sacco di spie. Questo è pronto. Sta facendo il test. Non ho capito questa qua. Vabbè l'ho controllata. Facciamo così. Allora ci dice che l'has a link non so cosa sia. Pil feed, criogeni, full rage, fill, fill. C'è un sacco di errori. Invece questo è in carica. Così mettiamo in carica. Ok. C'è tanta roba. Questo qui è il flow che non so di che cosa. E questo qui è il ciclo aperto chiuso. Beh tanta roba che ancora dovremmo capire. Cos'è questo? Il crio. Quindi se faccio così. Buh. Vabbè. La temperatura. Questo è pronto. Questo qui cos'è? Non lo so. Poi lo scopriremo. Forward. Rear. Full rag. Non lo so. Questo penso sia la benzina. Questo è per accendere. Ok. E queste sono le due batterie. Dico una 50%. Abbiamo MHD. Che non so cosa sia. Che è questo. Quindi potremmo fare così. No. Ok. Capriamo cos'è l'MHD. Poi abbiamo. Pilfeed. E line. Che non so cos'è. Ah MHD. Eccolo qua. Ho acceso. Era quello. Poi penso che. Siano questi due valori qua da alzare. Di circolo dell'aria. Boh. Questo qua è il crio. Ready, ready. Abbiamo questo. Ready. Ah eccoli qua. E ready. Abbiamo acceso tutto. Ti faccio accensione. Trema tutto. Quindi spegniamo. Siamo morti. Siamo morti. Cold atmosphere. Ah. C'è un'atrosfera caldissima contro il pane. Questo coso è acceso e fa un casino alla madonna. Ma questo è raffreddamento. Ok 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 ok. Spegniamo tutto. Come si fa a spegnere? Off. Mi trema tutto qua. Aiuto. Penso che io stia spaccando tutto. Secondo me eh. Poi non lo so. Allora. Redattore a fusione contro il pane. Continua a tremare. Oh questo qua era. Quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dato in teoria corrente al redattore. C'è stata un po' dura. Però ce l'abbiamo fatta. Bene signori. Io credo che il nostro gameplay possa finire qui. È una preview. E come tutte le preview. Non lascerò un feedback. Né un giudizio su questo gioco. Ma lascerò voi giudicare. Ricordando che in early access. Qui sotto in descrizione troverete il link di steam. Se vi va potete supportare il canale con un like o un commento. E se volete iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.